Musica Ben trovati all'edizione del sabato del telegiornale di Canale 12. Abbiamo raccolto un'incredibile storia, un imprenditore immobiliare si incatena in Viali Umberto davanti alla Direzione Generale del Banco di Sardegna per protesta contro la dirigenza dell'Istituto di Credito Sardo. Sentiamo Sandra Sanna. Ho deciso di incatenarmi a sede della Direzione Generale del Banco di Sardegna perché sono veramente rammaricato del comportamento del suo direttore generale Giuseppe Cucurese il quale nel 2012, a fine del 2012, mi ha fatto elargire un finanziamento milionario per l'acquisto di un'area e subito, tre mesi dopo, mi ha chiesto la revoca e il rientro di tutti gli affidamenti dell'azienda. Questa è l'incredibile storia che abbiamo raccolto alla vigilia di Natale in Viali Umberto dove Claudio Addis, imprenditore immobiliare di 43 anni di Trinità da Gultu ha deciso di dare voce alle sue pesanti accuse nei confronti della dirigenza dell'Istituto di Credito Sardo. Due anni dopo ho appreso che c'era una denuncia che interessava lo stesso Cucurese come parte interessata all'acquisto di quell'area assieme a delle altre persone e da lì ho capito che cosa stava succedendo. Mi stavano estorcendo la proprietà dell'azienda. Infatti sono stato a tutti i costi obbligato ad andare in concordato preventivo per disfarmi dell'azienda. Lei si rende conto della gravità delle accuse? Certo, io a suo tempo ho presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania dove si palesava un reato di usura compiuto da parte della banca negli anni precedenti durante i quali io ho operato con loro ma soprattutto ho presentato una denuncia nella quale si possono evincere bene situazioni molto discriminanti nei miei confronti. Per le accuse così gravi che sta muovendo potrebbe essere denunciato? Io spero che mi denuncino, spero che mi portino a processo e spero che mi diano soprattutto durante il processo delle spiegazioni. Che tempo pensa di rimanere qua? La mia intenzione è quella naturalmente di passare il Natale con i miei figli perché ho tre bambini a casa. La mia principale intenzione è quella di attirare l'attenzione della stampa e grazie a Dio ho visto che voi mi salvate di qua ci siamo riusciti. Spero che sopraggiunga qualche ad un altro perché ho intenzione di arrivare fino in fondo. Non sappiamo quanto siano fondate le denunce fatte da Addis ma lui assicura che siano tutte documentate. Non mancheremo ovviamente di aggiornarvi su questa vicenda. Dal 28 dicembre il Comune di Sassari reattiva il servizio di ricovero dell'ostello di Via Duca degli Abruzzi senza fissa dimora. Garantirà 20 posti letto e due passi al giorno. Sentiamo Adriano Porquedo. Si rinnova l'impegno dell'amministrazione comunale per i senza tetto e le persone che vivono in condizioni di disagio a Sassari. Riapre infatti il 28 dicembre l'ostello per l'acquaglienza notturna di Via Duca degli Abruzzi numero 5. Le basse temperature soprattutto nelle ore notturne di questi ultimi giorni hanno reso necessaria ancora di più la decisione di riattivare il servizio di ricovero. Il Comune di Sassari mette a disposizione per i mesi invernali 20 posti letto. I cittadini disagiati e senza fissa dimora potranno accedere al ricovero tra le 19 e le 22 di ogni sera e trascorrere lì la notte. Le attività di accoglienza saranno gestite dalla cooperativa Pegasus 1 che offrirà non solo un posto letto e due pasti, la cena e la colazione ma anche la possibilità di fare una doccia e garantirà inoltre il supporto psicologico. Si tratta di un servizio che l'amministrazione garantisce fin dall'inverno 2012-2013 ed è coordinato dall'Assessorato alle Politiche Sociali portato avanti anche grazie al coinvolgimento negli anni di diverse associazioni del territorio impegnata nel sostegno alle persone in condizioni di estrema povertà e senza fissa dimora. Lo stello notturno resta attivo per quattro mesi. Il settore ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari abbelliscono la città per le festività con 4.000 piante. Le attività previste contemplano la valutazione della stabilità degli alberi e la messa in sicurezza con potature o abbattimenti. Sono state inoltre tagliate le 23 palme attaccate dal punteruolo rosso. Vediamo il servizio. Sono numerosi gli interventi sul verde pubblico compiuti negli ultimi mesi dal settore ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Nello scorso mese di novembre è stato affidato a un professionista l'incarico di censire, valutare e sviluppare un programma per le necessarie potature su 290 alberi e nei casi più gravi gli abbattimenti. Lo stesso settore ha poi dichiarato che, eliminate le situazioni di rischio, l'obiettivo successivo è stato quello di sostituire le piante con nuove essenze ed infatti in questi giorni è stato affidato il servizio di ricostituzione delle alberate, che prevede la messa di mora di 60 nuovi esemplari. Mentre 4.000 piante tra ciclamini e viole abbelliscono la città per queste festività, un investimento di 104.000 euro. È in corso anche un appalto di manutenzione straordinaria delle vie alberate cittadine, che contempla l'abbattimento di 156 alberi non più vitali e di 24 palme infettate dal punteruolo rosso. Saranno inoltre sostituiti 350 alberi delle ultime giornate dell'albero in sei parchi 1x10, oltre alla realizzazione degli impianti di irrigazione per circa 3 etari quadrati. Apriamo la pagina della cultura. Un Natale d'autore restituire vita alle creazioni di Leonardo Caravaggio e Gauguin con gli studenti del Liceo Canopoleno, abbigliati e disposti in maniera fedele alle opere pittoriche rappresentate e dedicate al tema della Natività. Vediamo il servizio. Un buon Natale artistico. Lo ha proposto venerdì sera nel Teatro della Parrocchia di Cappuccini, il Liceo Canopoleno di Sassari. Gli studenti di alcune classi, guidati dai docenti Itacola Grossi e Mario Tola, hanno dato vita a tre grandi opere di Leonardo, Caravaggio e Gauguin dedicate alla Natività. Con Natale d'autore sono stati messi al centro i ragazzi e la loro curiosità. Un'esperienza completamente nuova rispetto a quella tradizionale di fruitori di un'opera d'arte dall'esterno. L'ispirazione degli artisti ha creato una visione della maternità in cui la donna, povera e sfinita o colorata e sfiorita, stringe il suo bambino appena nato, salutata e sorretta da chi le sta intorno. I ragazzi del Canopoleno, abbigliati e disposti in maniera fedele alle opere pittoriche rappresentate, hanno così trasferito al pubblico il senso dei tre dipinti e il miracolo della nascita del bambino e dalla magia creativa dei grandi artisti ne hanno saputo creare un'altra. Le rappresentazioni sono state precedute da un'analisi a cura del docente Mario Tola delle opere pittoriche che nei secoli hanno espresso il tema della Natività. Ora la musica, ultimo appuntamento della rassegna To Be In Jazz. Domani l'Orchestra della Sardegna Laboratory propone lo spettacolo Natale Swing. L'appuntamento è fisato alle ore 11 al Palazzo di Città a Sassari. Valeria Secchi Grande successo per la rassegna To Be In Jazz. I concerti aperitivi organizzati dall'Associazione Blue Note Orchestra hanno registrato il tutto esaurito in ognuno dei tre appuntamenti. La performance d'ouverture della rassegna, The Jerry Mulligan Song Book, ha visto protagonista l'ensemble Orchestra Jazz alla Sardegna, diretto da Roberto Spadoni, compositore, chitarrista e arrangiatore di Roma, che ha coinvolto il pubblico al ritmo di jazz. Tribute to Django, secondo spettacolo dell'edizione To Be In Jazz, e omaggio al chitarrista Django Renard, ha riscosso un enorme successo grazie alla direzione di Pino Iodice. Ugualmente l'omaggio a Duke Ellington con la direzione di Mario Rai è stato lungamente applaudito dal pubblico in sala, incantato dall'elegante rilaborazione per Orchestra Jazz del celebre Schiaccianoci di Tchaikovsky. Imperdibile il concerto fuori programma fissato per il 24 dicembre. Ad intrattenere i sassaresi nella mattina della vigilia di Natale sarà l'Orchestra Jazz della Sardegna Laboratori, che propone lo spettacolo Natale Swing, al quale seguirà la degustazione con vini bianchi e spumanti delle tenute selle mosca. L'appuntamento è alle 11 al Palazzo di Città a Sassari. Musica e spettacolo, ma anche solidarietà a sostegno della sezione dell'AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Ieri sera al Teatro Comunale, la Fondazione Maria Carta ha proposto una serata dedicata a Sassari, tra i protagonisti la band Sarda dei Tazenda. Sentiamo Luca Foddai. Un omaggio alla città di Sassari, tra musica e spettacolo, ma anche un'occasione per riflettere e sostenere la sezione dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Venerdì sera al Teatro Comunale, la Fondazione Maria Carta, con il patrocino dell'amministrazione comunale, ha proposto un vero e proprio evento che ha chiuso le iniziative promosse nel 2017 in diversi teatri della Sardegna, in comuni che hanno segnato in maniera significativa una parte del percorso artistico di Maria Carta. E la grande voce di Siligo, ambasciatrice dell'isola in tutto il mondo, è stata ricordata in apertura, con la proiezione di un video che ha ripercorso la sua straordinaria carriera di cantante, interprete e attrice. La Fondazione a lei dedicata, guidata da Leonardo Marras, si arricchirà a breve di una nuova presenza. Il comune di Sassari, ha annunciato il sindaco Nicola Sanna. Non solo musica e arte, però. La Fondazione Maria Carta, nel corso del 2017, ha promosso anche il progetto Frimmos, mettendo insieme musica e dibattiti dedicati alla società e all'economia, un'iniziativa rivolta alla sensibilizzazione di istituzioni e cittadini sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri, ma non solo. Nel corso della serata si sono alternati momenti dedicati alla musica, alla comicità e alla poesia, ma i protagonisti dell'evento sono stati Itazenda. La storica band Sarda ha proposto il progetto musicale Si Storia, un viaggio nel tempo per ripercorrere la lunga e gloriosa attività artistica del gruppo, insieme a Gino Marielli e Gigi Camedda, la voce di Nicola Nitte e altri musicisti, con un ricordo dedicato ad Andrea Paroti. Sono stati eseguiti i più grandi successi della band, che nel corso degli anni ha saputo mettere insieme i suoni della tradizione sarda con quelli contemporanei del pop e del rock, con collaborazioni prestigiose con Fabrizio De Andrè, Pierangelo Bertoli, ma anche con Francesco Renga, Eros Ramazzotti e Imodà. Si conclude questa sera le due giorni della manifestazione Ite Buffas col cibo di strada, manifestazioni e sport. Vediamo il servizio. Spazio allo street food in Piazza d'Italia, dove da ieri numerosi track hanno animato il salotto della città per il festival Ite Buffas dedicato al cibo di strada. Street food non significa però solo cibo, ma anche cultura di strada, per questo durante la manifestazione sono coinvolti anche chi la vive con le arti visive e lo sport. Gli studenti dell'Istituto Artistico infatti hanno realizzato graffiti con il tema cibo su apposite installazioni. L'appuntamento è per la chiusura questa sera. Siamo veramente contenti di questa manifestazione la prima giornata di ieri del venerdì è andata benissimo oggi ci sono i presupposti perché appunto ci sia un bis vi invitiamo tutti a passare in piazza per la manifestazione Ite Buffas è un bellissimo festival dello track food avete tante possibilità di scelta fra il cibo le bevande ci sono delle servizioni tipiche locali e internazionali vi aspettiamo tutti. ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi ben tornati in studio con la pagina sportiva parliamo di calcio un anno solare che regala la sassa ricalcio latte dolce il primato per quanto riguarda il rendimento nel campionato di serie D i bianco celesti nonostante la partenza è ad handicap al giro di boss sono i meglio piazzati in classifica per ciò che riguarda le formazioni sarde ne abbiamo parlato con il presidente del sodalizio che annuncia un progetto di riqualificazione degli impianti del quartiere opera appena conclusa potrebbe essere fruita da molte più società calcistiche vediamo il servizio di Cori Bicheso alla fine del girone di andata la sassa di calcio latte dolce risulta essere la miglior formazione sarda del girone ai nostri microfoni il presidente del sodalizio bianco celeste che ci parla dei progetti nitinere del club siamo abbastanza soddisfatti chiudiamo con tre punti in più confronto alla scorsa stagione siamo convinti che il girone di ritorno nonostante ci siano diverse squadre che si sono in ogni caso rinforzate ci dia quelle soddisfazioni che abbiamo auspicato all'inizio della stagione cosa promettiamo ai tifosi della sassa di calcio latte dolce per il 2018 ormai alle porte promettiamo quello che ci siamo detti all'inizio della stagione è quello di fare un campionato tranquillo ho sentito qualche dichiarazione di qualche nostro ragazzo che vorrebbe fare i playoff diciamo che sarebbe bello arrivare ai playoff però noi ci accontentiamo di rimanere in una posizione buona un tantino anche al di sotto dei playoff per questa stagione per poi programmare bene la prossima al di là del fatto che poi come società insieme a tutti gli altri dirigenti ci stiamo muovendo anche per la riqualificazione dell'intero impianto di via Leoncavallo infatti i giorni scorsi abbiamo inoltratto il tutto al Coni e se ci riusciamo lasceremo in eredità questa città una città della sportiva che penso che se ci riusciamo in Sardegna non ce ne saranno altri era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora ma prima di salutarvi alcune informazioni utili nei giorni festivi il palinsesto di Canale 12 subirà delle variazioni domani la cronaca della settimana e il 26 la cronaca dell'anno l'informazione invece torna mercoledì 27 dicembre nella forma festiva con un'edizione giornaliera del telegiornale da parte di tutta la redazione di Canale 12 i nostri più cordiali auguri di buon Natale grazie per aver scelto l'informazione di Canale 12 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.